Biologia lezione 24 Continuiamo a parlare della membrana cellulare in particolare adesso analizziamo nel dettaglio le funzioni della membrana la prima funzione è quella di trasporto ecco quindi una panoramica oltre alla funzione di trasporto abbiamo la funzione di esondocitosi la funzione di biosegnalazione e la funzione di adesione attenzione perché la funzione di trasporto e la funzione di esondocitosi sembrano correlate fra di loro in realtà la differenza sta nel fatto che nel trasporto noi abbiamo il movimento di sostanze attraverso il doppio strato di fosfolipidi nella esondocitosi invece questo non avviene di fatto quello che succede come vedremo è che la membrana si invagina all'interno della cellula o all'esterno e questo permette il trasporto di sostanze ma di fatto queste sostanze non attraversano mai la membrana si associano soltanto ecco la differenza tra trasporto e dei suendocitosi nell'ambito del trasporto distinguiamo due grandi gruppi il trasporto passivo e il trasporto attivo la differenza sta nel consumo energetico il trasporto passivo non richiede l'intervento di energia quindi di ATP nel trasporto attivo invece c'è bisogno di energia nell'ambito del trasporto passivo distinguiamo tre tipi la diffusione semplice, la diffusione facilitata e l'osmosi la differenza qual è? che nella diffusione si muove il soluto e quindi il movimento avviene secondo il gradiente di soluto nell'osmosi invece si muove il solvente quindi il movimento avviene contro gradiente di soluto ma secondo gradiente di solvente ora vedremo nel dettaglio cosa significa partiamo quindi con la diffusione semplice la diffusione semplice è chiamata così perché non ha bisogno di proteine canale o di proteine carrier che invece sono importanti e indispensabili per la diffusione facilitata le molecole della diffusione semplice passano liberamente attraverso il doppio strato si tratta di gassapolari tra cui ossigeno molecolare, intride carbonica e composti con azoto e ossigeno e di piccole molecole polari come acqua, urea o etanolo il passaggio quindi avviene secondo gradiente di concentrazione e avviene non molto velocemente avviene diversamente velocemente a seconda del tipo di molecola questi tre grafici appunto riassumono i parametri che incidono sulla velocità di trasporto il primo parametro è la differenza di concentrazione maggiore è la differenza di concentrazione maggiore è la velocità di trasporto l'altro parametro invece è dato dalle dimensioni ovviamente una molecola più grande farà più fatica ad attraversare il doppio strato di fosfolipidi quindi più sarà grande più la velocità di trasporto sarà bassa tuttavia il vero parametro che gioca la partita è la lipofilia perché più una molecola è lipofila quindi più riesce ad associarsi col doppio strato di fosfolipidi con le code di fosfolipidi più sarà veloce il passaggio quindi paradossalmente molecole grandi ma comunque molto lipofile riescono a passare comunque velocemente vediamo adesso la diffusione facilitata nella diffusione facilitata c'è l'intervento di alcune proteine di membrana in particolare carrier e canali nel caso dei carrier che cosa succede? che il carrier lega selettivamente una molecola che può essere ad esempio il glucosio a causa di questo legame avviene un cambiamento conformazionale e il glucosio viene liberato all'interno e all'esterno della cellula quindi glucosio, saccarosio ma anche amminoacidi quindi in sostanza molecole grandi e non liposolubili i canali invece hanno un andamento leggermente diverso perché sono deputati al trasporto di ioni la particolarità dei canali sta nel fatto che essi sono specifici soltanto per alcuni ioni il canale del potassio ad esempio trasporterà potassio il canale del sodio, sodio quando diciamo trasporterà potassio, trasporterà sodio bisogna comunque fare attenzione perché sia per i carrier che per i canali non vale mai un discorso assoluto il canale del potassio trasporta in grandissima quantità il potassio con molta maggiore affinità il potassio ma può anche trasportare altri ioni stessa cosa vale per gli altri canali ad esempio nel canale del sodio che succede? che il potassio essendo troppo grande non riesce a passare nel canale il sodio invece che ha un raggio atomico minore riesce tranquillamente a passare all'interno del canale avremo quindi canali per il sodio, per il potassio, per i protoni per il cloro, per il calcio, per il magnesio e anche per lo ione HCO3- l'andamento della velocità di trasporto a livello della diffusione facilitata è diverso rispetto a quello della diffusione passiva prendiamo come esempio la molecola d'acqua se la molecola d'acqua dovesse passare da sola nel doppio strato di fosfolipidi può farlo ma lo fa a una velocità molto bassa infatti il passaggio avverrà però avverrà molto lentamente anche se noi aumentiamo il gradiente di concentrazione vediamo che comunque la velocità cresce ma rimane comunque bassa se invece c'è un'acqua porina che è un canale per l'acqua a parità di differenza di concentrazione la velocità di trasporto dell'acqua sarà maggiore e questo nel grafico è ben evidente però nel grafico c'è un'altra particolarità dopo un'impennata iniziale il grafico piano piano della diffusione facilitata tende a stabilizzarsi e anche aumentando il gradiente di concentrazione la velocità comunque non aumenta questo a cosa è dovuto? è dovuto al fatto che nella diffusione facilitata vengono impiegati i carrier e i carrier sono in un numero limitato una volta che tutti i carrier saranno riempiti con la molecola che devono trasportare ulteriori aumenti del gradiente di concentrazione comunque non andranno a incidere sul trasporto perché i carrier saranno tutti pieni questa condizione è detta saturazione dei carrier cioè tutti i carrier sono occupati ed è il motivo per cui anche aumentando il gradiente di concentrazione la velocità non cambia parlo solo di carrier perché questo discorso non vale per i canali ionici in quanto i canali ionici avendo una velocità di trasporto molto elevata già di loro pur aumentando il gradiente di concentrazione comunque riescono ad aumentare la velocità di trasporto e quindi sono più assimilabili a una diffusione semplice come comportamento cinetico rispetto a una diffusione facilitata anche i carrier hanno una loro specificità che però non significa esclusività ad esempio il carrier del glucosio trasporta molto velocemente il glucosio ma trasporta anche a velocità minori il mannosio e il galattosio molto importante è poi il controllo che viene svolto sui canali non tutti i canali devono funzionare sempre devono funzionare soltanto in alcune situazioni e in risposta ad alcuni stimoli un tipo di controllo è quello da ligando quindi quando avviene il legame con una molecola c'è un cambiamento conformazionale nel canale il canale si apre stessa cosa è la fosforilazione quindi grazie al gruppo fosfato negativo si apre il canale un po' più intrigante invece è la regolazione da potenziale questa regolazione si avvale solitamente di cationi disposti all'interno della canale ad esempio il catione magnesio il magnesio va a chiudere il canale come se fosse un tappo diciamo questo è possibile perché? perché in condizioni di riposo l'interno della cellula è negativo rispetto all'esterno quindi il magnesio tenderà ad essere attratto all'interno e se è attratto all'interno si bloccherà nel canale e lo chiuderà nel momento in cui però c'è un'inversione del potenziale allora adesso la negatività sta fuori quindi il magnesio verrà attratto verso l'esterno nell'essere attratto libererà il passaggio del canale e quindi il canale sarà aperto regolazione da temperatura quindi in risposta ad aumenti di calore il canale si apre regolazione meccanica in risposta a stiramenti questi canali sono molto presenti ad esempio a livello del muscolo che proprio in risposta a stiramenti possono aprirsi e trasmettere determinati messaggi vediamo adesso l'ultimo caso di trasporto passivo ovvero l'osmosi nell'osmosi il movimento che avviene è del solvente e il solvente per eccellenza a livello dei compartimenti cellulari è l'acqua che cosa succede? succede che essendo la membrana cellulare semipermeabile il movimento dei soluti in alcuni casi non è consentito tuttavia comunque il sistema tende all'equilibrio cioè ci deve essere sempre un equilibrio di concentrazioni tra l'interno della cellula e l'esterno della cellula ecco che entrano in gioco le acquaporine e il trasporto dell'acqua l'acqua si muove andando secondo il suo gradiente ma contro il gradiente di concentrazione del soluto questo che significa? che se all'interno della cellula ad esempio c'è una soluzione più concentrata dell'esterno questo vuol dire che avremo più soluto all'interno e meno soluto all'esterno ma che allo stesso tempo avremo più solventi all'esterno e meno solventi all'interno quindi ci sarà un gradiente di concentrazione tra l'esterno e l'interno per quanto riguarda l'acqua e questo gradiente verrà dissipato attraverso sia le acquaporine ma anche attraverso diffusione semplice attraverso la membrana in questo modo l'acqua andrà a diluire la soluzione più concentrata e avremo due soluzioni con concentrazione uguale passiamo adesso al trasporto attivo nel trasporto attivo distinguiamo il trasporto attivo primario e il trasporto attivo secondario la differenza sta che nel trasporto attivo primario l'energia viene consumata direttamente per trasportare le molecole nel secondario invece l'energia viene utilizzata per creare un gradiente di concentrazione che permette poi il trasporto delle sostanze il trasporto attivo primario si avvale di alcune proteine chiamate pompe le pompe sono delle proteine che in modo attivo cioè consumando ATP riescono a trasportare soluti contro gradiente esistono vari gruppi di pompe uno dei gruppi più importanti è dato dalle P-ATP-asi cioè da pompe che utilizzano il fosfato donato dall'ATP come energia per poter spostare i soluti una delle più importanti pompe P-ATP-asiche è la pompa sodio-potassio che riesce a trasportare il sodio e il potassio contro gradiente di concentrazione vediamo come funziona a livello del versante intracellulare dove la concentrazione di sodio è minore rispetto all'esterno avviene il legame del sodio in un sito dedicato sulla pompa su un altro sito invece avviene il legame del fosfato donato dall'ATP che quindi esce come ADP il legame del fosfato induce un cambiamento conformazionale tale da far aprire la pompa verso l'esterno e da far comparire un nuovo sito che è il sito di legame per il potassio che prima non c'era, era nascosto e che compare soltanto in seguito alla fosforilazione il sodio viene espulso quindi contro gradiente il potassio invece si lega alla pompa anch'esso contro gradiente la pompa viene defosforilata e quindi torna alla sua posizione iniziale il potassio verrà liberato all'interno e ricomparirà il sito di legame per il sodio e quindi il processo può ricominciare un'altra categoria di pompe è data alle pompe VATP asiche si tratta di pompe che utilizzano ATP per trasportare dei protoni contro gradiente di concentrazione queste pompe sono molto importanti a livello degli isosomi in quanto permettono l'acidificazione dell'isosoma nel momento in cui l'isosoma viene attivato vediamo come funzionano abbiamo delle subunità esterne quindi subunità diciamo in viola che sono alfa e beta che poi trasmettono il loro movimento a delle subunità transmembrana un cilindro rotazionale e un'altra subunità accessoria quando avviene il consumo di ATP cosa succede? che per ogni ATP che viene consumato tre protoni entrano nella pompa e si vanno a legare su siti di legame a livello del cilindro che in totale presenta sei siti di legame quindi verrà consumato un altro ATP e ne entreranno altri tre fino a occupare tutti i siti di legame di fatto però il cilindro nella fisiologia della cellula presenta sempre i siti occupati una volta che tutti i siti saranno occupati cosa accadrà? che con l'arrivo del terzo ATP entrerà un altro protone però questo protone andrà a spiazzare il legame sul cilindro e quel protone che verrà eliminato entrerà contro gradiente nella pompa di tipo F invece accade esattamente il contrario cioè avviene un trasporto di protoni secondo gradiente questo trasporto di protoni permette la liberazione di una quota di energia che viene utilizzata per sintetizzare ATP a partire dall'ADP anche qui grosso modo la proporzione è di un ATP ogni tre protoni anche se comunque abbastanza imprecisa perché bisognerebbe tenere conto anche di altri fattori la differenza però sostanziale fra le pompe di tipo V e le pompe di tipo F sta che nelle pompe di tipo V avviene un passaggio di protoni secondo gradiente e questo viene utilizzato a spese energetiche per poter acidificare ad esempio i lisosomi nelle pompe di tipo F invece il passaggio è secondo gradiente e l'energia viene utilizzata per sintetizzare ATP dall'ADP è una pompa di tipo F ad esempio l'ATP sintasi dei mitocondri che permette appunto la sintesi dell'ATP alla fine della fosforilazione ossidativa quindi facendo un punto sui vari tipi di pompe abbiamo quelle P-ATP-asi V-ATP-asi F-ATP-asi le P-ATP-asi trasportano essenzialmente ioni e sono presenti a livello del re quindi del reticolo endoplasmatico e della membrana citoplasmatica quelle tipo V invece trasportano protoni contro gradiente e si trovano principalmente a livello degli isosomi quelle F invece trasportano protoni secondo gradiente e sono presenti a livello della membrana mitocondriale interna un altro tipo di trasporto primario è quello dei trasportatori ABC si tratta di trasportatori presenti a vari livelli evolutivi si pensa che sono tra i trasportatori più antichi a livello evolutivo perché sono presenti in molti organismi e sono utilizzati con una doppia funzione sia per importare sostanze all'interno della cellula ma anche e soprattutto per espellere varie categorie di farmaci e di sostanze che potrebbero essere dannose a lungo andare per la cellula se il trasportatore lavora come exporter quindi come eliminatore di sostanze vediamo che la molecola di eliminare si lega in un sito dedicato sul trasportatore il trasportatore viene fosforilato questa fosforilazione con doppio ATP comporta un cambio conformazionale che permette l'espulsione della molecola se invece lavora come importer allora avremo l'arrivo della molecola da internalizzare solitamente grazie a una molecola accessoria la fosforilazione e il trasporto all'interno della cellula passiamo adesso al trasporto attivo secondario il primo esempio di trasporto attivo secondario è il simporto vediamo come funziona facciamo innanzitutto il punto della situazione abbiamo un gradiente di concentrazione del glucosio diretto dall'interno verso l'esterno mentre il sodio è in equilibrio quindi non sono presenti gradienti di concentrazione che cosa accade? accade che a livello di un trasportatore dedicato si legano due ioni sodio mentre a livello dell'altro trasportatore si lega il glucosio che però ricordiamo è controgradiente avviene il legame di una molecola di ATP sul trasportatore del sodio e quindi il sodio grazie a questa energia viene trasportato all'esterno quindi controgradiente di concentrazione a questo punto si è venuto a creare un gradiente del sodio fra l'esterno e l'interno il sodio quindi cosa farà? si va a legare nel trasportatore sodio glucosio quindi che è un canale un carrier anzi che riesce a trasportare insieme sia il sodio che il glucosio che succederà? che l'energia del gradiente di concentrazione del sodio verrà utilizzata per trasportare il glucosio contro gradiente ecco perché è secondario il trasporto perché la vera energia non è nell'ATP ma nel gradiente di concentrazione che si è venuta a creare grazie all'ATP il trasporto quindi adesso può avvenire e si importo avviene nella stessa direzione quindi sodio e glucosio si spostano nella stessa direzione questo trasporto è molto importante ad esempio a livello dei reni perché? perché a livello renale c'è bisogno di riassorbire attivamente all'interno della cellula diverse molecole aminoacidi glucosio e via dicendo questo viene fatto proprio creando un gradiente di concentrazione del sodio e sfruttando quel gradiente in vari simporti che quindi permettono il riassorbimento delle molecole più importanti l'altro tipo di trasporto invece è l'antiporto che a livello concettuale è esattamente l'opposto del simporto anche qui abbiamo un gradiente di concentrazione del calcio diretto all'esterno all'interno un'assenza di gradiente del sodio il sodio si lega sempre nel suo trasportatore avviene la fosforilazione con consumo di ATP quindi cambiamento conformazionale liberazione del sodio all'esterno e creazione del gradiente del sodio a questo punto il sodio si lega nel secondo trasportatore che è uno scambiatore sodio calcio il trasportatore ha un cambiamento conformazionale e quindi espone i siti di legame del calcio verso l'interno dove il calcio è meno concentrato il sodio entra il calcio si lega nuovo cambiamento conformazionale e liberazione del calcio all'esterno e quindi si è venuto a generare un trasporto contro gradiente ecco perché antiporto perché perché il gradiente del sodio ha concesso un movimento ma il sodio si è mosso nel verso opposto del calcio quindi il trasporto è avvenuto su due direzioni opposte attrapposte